L'associazione sportiva Pippo Staff in collaborazione col Carpe Diem e il Comune di Gioia del Colle organizzano il secondo torneo di volley, Memorial Gianni Angelillo, dal 14 giugno al 13 luglio in piazza Pinto Gioia del Colle, torneo 3x3 pro, torneo 3x3 misto, torneo 3x3 easy, venite a trovarci e iscrivetevi numerosi, grazie, ciao.